«Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi sano e salvo. In nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale sia stabilito che possiamo essere salvati». Questa affermazione rivolta al Sinedrio ha un valore universale, poiché per tutti, giudei e gentili, «La salvezza non può venire che da Gesù Cristo». Gesù è l'unigenito mandato dal Padre perché prendesse su di sé il peccato dell'umanità e noi potessimo diventare per mezzi di Lui giustizia di Dio. Difatti Cristo morì per i nostri peccati». Riporto un'esperienza di vita, letto su di una rivista parecchi anni fa, speriamo superata, però quando io la lessi rimasti un po' sconcertato. Un'ultima trovata economica in Giappone secolarizzato. «L'idea è venuta, c'è un nome giapponese, a una stilista nipponica che ha dedicato un'intera collezione ai trapassati prossimi in Giappone. L'unica industria destinata con certezza a svilupparsi è proprio quella funeraria. «Il motivo è semplice, il tasso di natalità è inquiodato all'1,5 per mille, quasi come l'Italia. Non è cinismo, alla morte si pensa ancora, ma come un fatto naturale, senza alcuna sacralità. Si va dal sarto e si sceglie il completo con cui fare colpo sugli amici e parenti». Ma anche questo è un fatto economico. L'iniziativa è stata presa perché può essere fonte di guadagno, così come tante altre iniziative, ma non si potrebbero investire soldi e intelligenza per risolvere problemi veramente importanti perché l'uomo non si ingammini verso una morte totale. Non nella crocifissione di Gesù come nella lapidazione di Stefano riscontriamo che due innocenti vengono condannati da un popolo accecato dall'odio e dalla violenza. due vittime innocenti che reagiscono amando di più e offrendo la propria vita per la salvezza di Gesù. Gesù e Stefano fanno una prighiera al Padre molto simile. Quale? «Signore perdona loro perché non sanno quello che fanno». Che bello! Ci lamentiamo della nostra religione, una religione di amore che ci spinge ad amare anche quando siamo colpiti ingiustamente dalla scimitarra, invitati ad amare, a creare un mondo migliore. Volendo fare un riferimento a Padre Pio, come San Francesco ha un unico libro, Gesù crocifisso, i suoi compagni di studio ci riferiscono che Padre Pio durante la meditazione, e si spegnevano le luci, quindi si meditava un po' con la lampada appena appena che illuminava la sala, e Padre Pio si commuoveva, pianceva fino al punto da versare lacrime e queste lacrime cadevano sul pavimento e si bagnava il pavimento. E lui per non farsi poi insultare dagli altri fraticelli, gettava il fazzoletto per terra e col piede asciugava le lacrime. Era tanta la commozione nel pensare, nel meditare la passione di Gesù che addirittura versava lacrime. Egli non era un masochista, ma uno che amava non solo Gesù, ma le stesse anime che facevano soffrire Gesù. Bello, bello, bello. Se non ascoltassi, e Padre Pio che scrive nell'epistolario, se non ascoltassi che la voce del cuore chiederei a Gesù che mi desse tante tristezze, tutte le tristezze degli uomini, ma non lo faccio perché temo di essere troppo egoista, bramando per me la parte migliore, il dolore. Nel dolore Gesù è più vicino, Egli guarda, è Lui che viene a mendicare pene e lacrime e ne ha bisogno per la salvezza delle anime. Per Padre Pio la spiritualità della croce è come il tema di fonte della sua direzione spirituale. Scorrendo tutto l'epistolario, ci si accorge che tutta la problematica della vita spirituale viene esposta ed interpretata sotto l'aspetto del dolore come elemento purificatore di vittima per la salvezza dei fratelli. Quindi soffrire non per gusto di soffrire, masochisti, per dire io riesco a soffrire. No, soffrire per salvare gli altri, per salvare i fratelli. No, soffrire per salvare i fratelli. No, soffrire per salvare i fratelli. No, soffrire per salvare i fratelli. Grazie.